Giorno 30 gennaio il Presidente della Giunta regionale presenterà il suo report sull'attività dei primi due anni del suo governo regionale. Lo farà dopo una serie di vicende politiche, soprattutto quelle legate al referendum, che hanno appannato la sua immagine politica. E tuttavia, nonostante questo appannamento, dovuto a una serie di difficoltà e inefficienze nella gestione burocratica della regione, Mario Oliverio risulta il più popolare dei governatori del Sud. Certo, con un calo, ma secondo questo sondaggio pubblicato da solo 24 ore, Mario Oliverio è ancora uno dei politici più graditi del mezzogiorno e si piazza addirittura al sesto posto in Italia. Allora, ci si chiede, il Presidente Oliverio può farcela, può farcela superare questo appennamento, queste difficoltà? Sì, noi riteniamo che Mario Oliverio può farcela. Ha due grosse problemi sul suo percorso. Uno è la burocrazia regionale, una burocrazia tra le più corrotte e anche le più inefficienti del Paese, che si innesca in un problema della burocrazia a livello nazionale. Poi il secondo problema che ha è quello di rendere adeguato il suo partito d'appartenenza, il PD. Quello regionale è veramente in una condizione pietosa. Ha bisogno di ristabilire un rapporto vero con il PD nazionale, responsabile anche di alcune scelte sul territorio calabrese, come quella di imporre e di volere e di continuare a mantenere il commissario scura al suo posto, nonostante Oliverio ne chieda da tempo la rimozione. Sono sfide difficilissime, anche perché affrontate dal Presidente in una condizione di grande ostilità rispetto agli altri attori di questa regione, tra i quali anche una stampa che pregiudizialmente sta facendo degli attacchi mediatici spesso basata su bufale. Noi riteniamo però, proprio sulla scia della indicazione di quel sondaggio, che Oliverio può farcela. Ha dalla sua un capitale che è ancora ritenuto credibile dai calabresi, la sua integrità politica e morale. Noi vigileremo sull'operato del suo governo, ma nello stesso tempo ne sosteneremo l'azione quando essa va nell'interesse dei calabresi. Grazie a tutti!